Si dice che devi sempre ascoltare il tuo cuore e quale posto migliore per farlo dell'isola di Irlanda. Dopotutto, chi ti conosce meglio del tuo cuore sa quello che ti emoziona, ti appassiona, ti fa divertire. Il tuo cuore è la tua guida migliore. Ti porta a conoscere persone nuove e nuovi sapori. Ti fa raggiungere posti incredibili e vivere momenti indimenticabili. Allora dai, vieni a riempirti il cuore con tutto quello che lo fa battere. Irlanda. Dritto al cuore.